dopo una settimana di pausa causa sanremo han deciso su mediaset di non trasmettere il quarto episodio di chaki questa serie televisiva dedicata alla bambola assassina ecco che però ieri sera giovedì dopo la maratona di harry potter perché dopo ogni film di harry potter viene proiettato viene trasmesso un nuovo episodio di chaki la puntata è andata finalmente in onda diretta da leslie libman che dirige forse l'episodio più sottotono ora come ora della serie che sì mi è piaciuto ma non mi ha entusiasmato come i precedenti recensione spoiler quindi nel caso non aveste visto l'episodio recuperatevelo su mediaset infiniti perché è disponibile gratuitamente lo trovereste proprio online gratuitamente altrimenti continuate ad ascoltarmi senza problemi dunque la puntata si svolge proprio pochi momenti dopo l'incendio a casa di lexi che ha provocato diverse conseguenze negative quasi tutta la puntata si svolge all'interno quindi dell'ospedale ci sono questi ragazzi in terapia intensiva perché hanno respirato il fumo dell'incendio con un jake che si sente in colpa che subito corre all'ospedale e si trova faccia a faccia con lexi lo sapevamo che lexi non fosse morta me lo aspettavo lexi che ovviamente dice guarda che è stato chaki c'è un alterco tra i due perché sei stato tu a dare chaki a mia sorella ma cosa volevi fare e jake proprio ammette che il suo intento inizialmente era quello di uccidere lexi voleva che chaki uccidesse lexi ci ha provato anche lui stesso ad uccidere lexi quindi c'è un ragazzo che ammette le proprie colpe ed un alexi che allora per come l'avevo seguita e osservata nel corso delle scorse puntate mi aspettavo anche che potesse andare dando di pazza a rivelare la verità a tutti e quindi facendo passare jake come un assassino però allo stesso tempo poi ho pensato chi le crederebbe se dicesse che chaki è in realtà un assassino che in realtà non sia una bambola ma uno spietato criminale nessuno quindi l'unica cosa che può fare è cercare di unirsi a jake per fronteggiarla perché per quanto lexi possa essere stronza possa essere arrogante inizialmente ho pensato ok dai ora farà passare malissimo jake rivelerà la verità lo farà passare come un assassino però poi ho detto chi le crederà quindi è normale nonostante gli attriti che i due possano andare incontro ad un'unione un'unione che li porterà nella casa incendiata è un po strano che dopo tutto quello che è successo ci sia solo una guardia che poi li riporterà all'ospedale c'è una casa incendiata da poco tempo è già stato tutto sistemato non ci sono magari vicini guardoni che ne so oppure i vicini del fuoco i pompieri no quindi sicuramente è una puntata un po più meno credibile a dal punto di vista del realismo questa quarta questo quarto episodio però ecco vediamo dopo tanto tempo perché te la fanno desiderare una bambola sfregiata non come nel film la sposa di chaki né tantomeno il figlio di chaki però questa volta un nuovo sfregio causato dall'incendio quindi a mezzo volto sciolto che cade e sicuramente vedere chaki così è una goduria con un chaki che mentre lexi sta per cadere dal piano superiore comincia a dire a jake dai è il tuo momento lasciala cadere lasciala cadere poi è un po ridicola quella scena perché l'inquadratura ti mostra l'altezza effettivamente anche fosse caduta non si sarebbe fatta niente perché c'erano nemmeno tre metri da dal piano terra al primo piano però indipendentemente da questo vediamo un chaki pronto ad accoltellarla un chaki che secondo me per la prima volta in questa puntata vediamo in più versioni cioè ci sono più versioni della bambola io mi chiedevo sempre ma quando vedremo tutte le altre bambole assassine perché sapevamo anche grazie al culto di chaki quante ve ne fossero in questo caso più volte anche mentre il fidanzato di lexi il cugino di jake si sta sottoponendo alla cura vediamo correre questo bambolotto ed è un po strano che sia il solito chaki sfregiato perché altrimenti cosa fa va dall'ospedale a casa poi da casa torna all'ospedale cioè cosa perché sarebbe dovuto andare a casa mentre era già all'ospedale quindi secondo me qua poi magari è così è però lo trovo un po non lo so un po un po esagerato anche perché una bambola era restata nella casa al momento dell'incendio la un'altra la vediamo correre all'ospedale poi quella che era a casa al momento dell'incendio viene riportata all'ospedale dalla guardia quando trovo i due ragazzi in casa quindi non lo so e potrebbero esserci già più bambole in questa puntata anche se tutto sommato non so a cosa sia servito perché ti lascia dedurre la puntata che ci siano più bambole ma poi almeno in questa vediamo sempre la solita ok sì ci sono dei momenti in cui chaki porta avanti tutta la sua cattiveria uccidendo il dottore con tutte queste siringhe nel corpo e questo lago di sangue che esce addirittura dalle unghie dagli occhi dalle orecchie una scena veramente sopra le righe però i momenti che più mi hanno colpito sono quelli dei flashback sono quelli dei flashback perché vediamo un charles lee ray ragazzo dopo che i suoi genitori non ci sono più e sappiamo perché in questo collegio dove fa amicizia con altri ragazzi che plasmerà e farà diventare fuori di testa come lui si cita eddie caputo quindi grande collegamento al primo film della saga degli anni 80 ricordate eddie caputo che stava attendendo charles lee ray sul furgone fuori dal negozio di giocattoli solo che poi arriva la polizia eddie caputo scappa col furgone e charles lee ray resterà lì e proietterà la sua anima all'interno della bambola per la prima volta eddie caputo che poi faceva esplodere in casa il nostro chaki ricordate che quando andy doveva andare a scuola gli diceva no no oggi tu non vai a scuola e si fa accompagnare a casa di andy caputo per farlo esplodere di eddie caputo per farlo esplodere quindi è interessante quando c'è la detta lì al collegio l'infermiera che dice eddie caputo detto ok hanno rimarcato esplicitamente questo nome chi era eddie caputo ho fatto due più due ho subito ricordato nel primo film ciò che era accaduto quindi i flashback sono i momenti migliori dove tra l'altro si sceglie questo ragazzo così all'apparenza buono no con questa faccia acqua e sapone molto delicato e poi invece c'è quel momento in cui si vede in contrasto il volto del nostro protagonista del ragazzo che interpreta charles lee ray e il volto della bambola no queste due cose che si accomunano si abbracciano ed è bellissimo quel momento mi ha fatto quasi venire i brividi quindi i momenti dei flashback sono i migliori sappiamo che fine farà eddie caputo mentre per il resto è un episodio ecco secondo me questo che sta un po nel mezzo sta un po nel mezzo perché è l'episodio che unisce la faccenda accaduta in casa quindi l'incendio e tutto ciò che ne consegue e ciò che verrà dopo l'ho trovato quasi come la parte centrale dove si comincia a percepire che la faccenda potrebbe ingrandirsi dove senz'altro nell'episodio successivo immagino compariranno anche altri vecchi personaggi perché mi sembra che ora che anche lexie ha scoperto la situazione questo sia proprio un episodio che serva a collegare ad unire il nuovo con il vecchio quindi in quell'ospedale arriverà qualcuno ne sono convinto termina con l'irriverenza di shaki che manda a fare in culo lexie e jake dopo che anche i dottori hanno trovato il medico morto e dopo che ha tentato proprio shaki di uccidere la sorellina di lexie staccando proprio l'ossigeno staccando dalla presa l'ossigeno quindi secondo me questo è proprio un episodio che serve per andare incontro ad una situazione imminente proprio dove la faccenda scapperà di mano ai nostri protagonisti sì perché vediamo anche la poliziotta che comunque continua ad investigare non vuole che suo figlio frequenti jake ma invece lui lo vuole frequentare perché compie anche delle ricerche fa delle ricerche su internet in cui scopre il passato di charsley ray del fatto che si dica si sia proiettato all'interno della bambola quindi mi ha dato proprio l'idea questo quarto episodio di innescare la bomba che esploderà nel futuro quinto episodio della prossima settimana e purtroppo vi dico la verità mi è piaciuto l'ho trovato dignitoso l'ho trovato interessante ma fra quelli visti per ora è quello che mi ha lasciato di meno sarà che chaki per quanto sempre iconica l'ho trovata meno non saprei dire l'ho trovata meno diabolica del solito sarà perché ho trovato anche delle ingenuità proprio di scrittura vuoi che questi tornano in casa subito e non ci sono controlli non si capisce quante bambole ci siano quindi è una puntata che rispetto alle altre è un po forse caotica però nel complesso nel complesso va bene cioè è una serie che è composta da otto episodi quindi ci sta che ci sia quello migliore quello peggiore fortunatamente per ora di non riusciti non ce ne sono stati però vediamo cosa accadrà in futuro quindi ragazzi fatemi sapere la vostra magari a voi è piaciuto molto più che a me vi dico a me riusciva a colpirmi di più quando ancora chaki non si era rivelato quando ancora lexi aveva quel suo comportamento così arrogante quindi metteva in difficoltà anche un jake che allo stesso tempo era era pressato da un chaki che voleva farlo diventare un assassino e quindi vedevamo la persona che doveva interrogarsi una persona che molto spesso si è interrogata su di sé che ha avuto paura di dimostrare chi fosse come fosse per paura del giudizio e quindi ora che la faccenda da un momento all'altro è stata rivelata quindi lexi lo sa non lo so mi è mancato un po' quella sensazione di imprevisto che invece si verificava negli episodi precedenti poi certo tutti gli altri non lo sanno quindi chissà cosa accadrà poi ripeto torneranno gli altri personaggi storici e secondo me già nella quinta puntata vediamo un po' cosa questa serie ci riserverà mi ritengo comunque soddisfatto anche se per ora è l'episodio che mi è piaciuto di meno un caro saluto vi ricordo che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social che potreste abbonarvi al canale e che abbonando vi ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana un caro saluto e alla prossima ciao ciao ciao